Mangiare sano, qualità in sicurezza. Sono incontri con il territorio agricolo veronese, dove con immagini andremo a scoprire luoghi di grande capacità nel produrre ortaggi. Mangiare sano è un impegno di Vol Ortofrutta per far conoscere ai propri consumatori la sua filiera produttiva, che appartiene alla tradizione ortolana di Verona ed è legata a quel mondo medievale di piazza delle erbe. Mangiare sano non è solo produzione di campo e lavorazione di magazzino, ma anche gastronomia veronese che incontreremo nella cucina di Roberta. Cavoli, radicchi e patate sono le principali produzioni della Verona ortolana, coltivati in questi terreni di sabbia, lentamente depositati nei secoli dal grande fiume Adige. Ed è qui che ha le sue produzioni Vol Ortofrutta.